Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata della BlazeCraft 4 Ci troviamo qui nella nostra basettina momentanea nella montagna E se ricordate bene avevamo appena cominciato la costruzione C'è un suono in sottofondo che mi disturba un botto Ma avevamo appena cominciato la costruzione della nostra meravigliosa casa della BlazeCraft Quindi ragazzi abbiamo il legno, abbiamo due scaline che avanzano e dei mezzi blocchi E possiamo continuare quindi la costru... Che cazzo è successo? Che cazzo? Che cosa è successo? Perché? Per quale fa tutta ragione? Ehm, ok, aspetta È salvabile, è salvabile Lo so, è salvabile Non è salvabile, devo scappare Oh, merda Merda, gli alberi, gli alberi stanno attaccando gli alberi No, raga, è un disastro Ho le Ender Pearl, ho le Ender Pearl Le Ender Pearl, lati lì Dobbiamo spegnere No, 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 no È finita, prenderà a fuoco tutta la foresta Prenderà a fuoco tutto E se succede questo Il mondo perirà nel lag Non va bene, non va assolutamente bene Ehm, ok, 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 ok Devo spegnere Devo spegnere almeno gli alberi Devo spegnere gli alberi La casa è persa, ma Oddio, dobbiamo estinguere il fuoco Perché Cazzo, se prendono... No, stanno prendendo a fuoco gli alberi, ragazzi Se prende a fuoco la foresta è la fine È la fine, ti ho detto Non puoi, non puoi Non bruciare Non t'azzardare Non ti permettere Scendi qui Spegni, 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 spegni tutto Via questo blocco Ho ancora bruciacchiare qualcosa Ma forse si è spento Ce l'abbiamo fatta estinguerlo Direi di sì Cazzo, ragazzi La casa è distrutta Ma... Come... Ah, com'è successo? Avevamo appena cominciato a costruirla Prometteva bene Era una bella idea Dannazione, adesso... Che cos'è quel coso di? What? Ma... Ma questo... Hanno lasciato una loro firma! Sono stati qui Donnati maledetti pirati Quelli che hanno la nave lì Che è nella montagna Che non ha senso Madonna Perché devono venire a fare brutto a me? Che cosa gli ho fatto di male? Sì, sono troppo vicino a loro Ma non pensavo di Aver sfociato nel loro territorio Madonna, raga Mi hanno distrutto tutto Ma... Ma... La devono... La devono pagare No, no Questa cosa... Non esiste Non ci siamo capiti La devono pagare, ragazzi Quella nave... Quella nave gliela spacchiamo Gliela devastiamo Ve lo giuro Fosse l'ultima cosa che faccio Allora Ho del cibo Magari mi fa comodo anche la... La sparafuoco qui Anche se dare fuoco a tutto quanto Via queste robe Ragazzi È deciso Mi hanno voluto sfidare Io... Io adesso accolgo la sfida E non mi tiro di certo indietro Andiamo dai pirati E li dobbiamo devastare Ok? Perché? Va bene Era il loro territorio Che forse Ho costruito troppo vicino Gli ho dato fastidio Ma mi hanno dato fuoco La casa Prima Che iniziassi il video È stato Dannatamente orribile Quindi adesso Li dobbiamo distruggere Li voglio Estinguere Ender Perliamoci subito Mi tengo pronto anche un piccone E andiamo Guardali Guardali Merde Morite tutti Cosa mi spari? Eh? Cosa mi spari? Dovete creparci Dio che lag Oh mio dio Ecco perché laggava Cazzo sono spawnati in mille Sono spawnati in 1500 Stanno bevendo Il rum Cosa stanno facendo? Li devo uccidere Devo uccidere alla svelta Prima che mi uccidano loro Prima che mi uccidano loro Ok Ok Mi hanno fatto malissimo Aspetta che Ci ritiriamo Un secondo Oddio Stavo per morire Li danno la caduta Aspetta Abbiamo fatti fuori un botto Un attimo Mangiamo E ricomponiamoci Ok Ok Ho mangiato Va bene Piccone in mano Guardali Mi sparano Mi hanno tolto un botto Ma fanno malissimo Quando sparano Eh Ok Ok Che cazzo Meno male che non subisco danno La caduta ragazzi Sono caduto Perché sono caduto qui? Vabbè uccidiamo questo Mi stanno seguendo Stanno cadendo nella trappola Buono buono Se cadono uno per uno Li gestiamo bene Altrimenti Cazzo cazzo Eccoli Eccoli Salto Devo saltare Devo saltare Devo evitare i loro colpi Perché se mi beccano Fanno malecane Questo è un problema Questo è un problema Li ho uccisi tutti questi Sì Ok Mi spiegate perché la nave dietro è sventrata E io ci posso entrare Così di cattiveria Beh Perché a questo punto Io potrei entrare anche da qui Volendo Sperando che non laghi ancora Perché quando Li spawner danno vita Ai mob Lagga Da fare schifo Ok 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 Giustiamoli con calma Uno per volta Se magari li inquadriamo Anche Perché se no Se non li colpisco È un attimo un problema Ucciderli Sai com'è Vieni qui Vieni qui Morto Ok C'è un altro qua Che cos'è Un cavallo Noi i cavalli Lasciamoli stare Va bene che sono persone orribili Però In questo caso Non sono miei avversari E qui fuori Qui fuori nulla In realtà Non c'è nulla Ritippiamoci Mangio Ok Cambiamo Arma Perfetto Salta E uccidi lui Che mi stava già per sparare Guarda ce ne sono altri tre Ce ne sono altri tre Con la pistola in mano Ok 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 Sparali Cioè uccidilo uccidilo Prima che ti spari Ok preso Preso Guarda quello che si cura Shottato Shottato Ok Ora ci mettiamo qui Che ansia Recuperiamo un attimo di vita Ragazzi Purtroppo Partono i lagghini Qui quando spawnano Perché sono troppi Ok Lì c'è un bel gruppo Folto di pirati Saltiamo sulla vela Salta sulla vela Li facciamo un'imboscata Appena passa uno Guardalo qua Guardalo qua Siamo pronti raga Aspettate Vai Ora 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 Seguilo Seguilo Ucciso Ucciso E ora loro Quelli indiamantati Quelli indiamantati Non li faccio avvicinare Non li faccio avvicinare Uccisi tutti Mamma mia Il devasto Devo mangiare ancora Devo mangiare ancora Sono a corto di cibo Questo è un grosso problema Ok abbiamo ripulito il ponte Ora Se noi entrassimo lì dentro Non so Se c'è gente Proviamo Qui Sembrerebbe Non ci sia nessuno Ma la nave è ancora Molto molto ampia Ci sono degli scheletri What? Inizio a uccidere loro Lo scheletro ha una fleccia esplosiva Ha una cazzo di fleccia esplosiva Ok morto 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 Vai su di loro Uccidiamoli Perfetto Perfetto Ok andiamo dall'altra parte Ce n'è già un altro Ok ragazzi Li semi shot Praticamente Siamo molto forti Quindi se non ci prendono In gruppo con le pistole Siamo messi anche bene Guarda questo Sorta di Cane randaggio Stavano dormendo Stavano dormendo Li prendiamo la sprovvista Vai Vai Morto 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 Questo che cos'è? Un acquario C'è un acquario Dentro la nave Ma che ignoranza Ok Ho appena finito il cibo No abbiamo anche la carne di montone Qui Perfetto Ci servirà Ci servirà Moltissimo E qui ci sono Le carceri Ma noi dobbiamo andare avanti Quindi Per esempio Da questa parte Suppongo Cosa ci sono le ceste? Ah Bene cibo Ok Prendiamoci questo Che lo preferisco Un po' di sano pane Altro pane Perfetto Così non mangiamo la roba cruda Che se non è Non è sushi sashimi Io roba cruda Non la voglio Grazie Un'altra stanza C'è gente pericolosa Qui dentro Vero? Mette una torcia Un pirata Molto più grande Che succede? No le frecce velenose No Eh no eh Eh no zio Col weeder pure Ma scherziamo? Quanto ci vuole a farlo passare? Tre secondi Va bene è gestibile Dai è gestibile Adesso passa Ci mangiamo un altro panino Intanto E ci siamo Vai Ricominciamo Ce n'era Almeno un altro Eccolo Erano in due Erano in due Sono grossi Questi sono più potenti Però li abbiamo shottati easy Qui dentro I letti Ok Qui dentro c'è uno scheletro Perché c'è il buio Ok L'abbiamo ucciso Altri letti E magari iniziamo a illuminare Perfetto Qui Altro scheletro E qui dentro Nulla Ok Qui ci sono diamanti Ci sono minerali preziosi Che prendiamo E andiamo avanti Armi in mano sempre Questa nave è molto più grande di quello che sembri Quindi dobbiamo uccidere questo scheletro subito Per fortuna non ha effetti sulle sue frecce E qui Ah È tutto Spaccato Per qualche strana ragione Va bene Penso che Io abbia effettivamente Estinto i pirati Cioè li abbiamo devastati ragazzi Non Non ce n'è più neanche uno Qui c'era un cavallo Che possiamo tenere tranquillamente in vita Perché non ci ha fatto nulla di male E direi di illuminare tutto per bene Perché Possono spawnarci più che altro Altri mob qui dentro Tipo gli scheletri di prima Sì ragazzi non c'è assolutamente nessun Supersit su questa nave E considerato che il ponte È molto al buio la notte Ed è una Piana Praticamente ci potrebbero spawnare Mille mila mob Quindi dobbiamo illuminare tutto bene Anche al piano di sotto Basterà illuminare E non dovrebbe spawnare più nessuno qui Ehm Ok ci siamo vendicati dei pirati E ci siamo vendicati anche a una velocità record Il fatto è che Io ora rimango senza casa Per cui Potremmo fare una cosa Alla fine a me piacciono le navi Lo sapete E anche se questa nave Non la reputo neanche lontanamente vicina Per quanto abbia un acquario all'interno Alla bellezza della mia nave Della serie di sopravvivenza È un edificio molto grande Lo abbiamo ripulito Potrebbe adattarsi bene A una casa Potrebbe essere Una casa davvero ignorante Una nave Cioè vi rendete conto Possiamo abitare in una nave enorme C'è spazio per fare di tutto qui Quindi Ci sta ragazzi La nostra nuova casa Sarà questa nave Una nave In mezzo alle montagne Il che non ha nessun fottuto senso Però Va bene Ora Questa sarà casa nostra Mi mancava di vedere questa stanza E guardate Questo pugnale è uguale al mio Come se ci fosse il boss Ma io vi giuro che non ho Visto né affrontato Nessun boss E mi sa che era sì la camera del boss Guardate cosa c'è qui dentro Quanta roba A parte che sto Raccogliendo Wow Belli Questi sono interessanti Sto raccogliendo tutti I materiali che trovo Ma Alla fine dei conti Se questa è casa mia E se rimangono anche qui Non è un grosso problema Insomma Sono sempre in casa mia Quindi Ci starebbe Però noi li prendiamo lo stesso Per il momento Perché Voglio un attimo Organizzare bene Questa cosa Ah e queste botole Danno giustamente All'interno della prigione Ok Qui dentro Potremmo Organizzare Una sorta di Zona Living Come fai ad arredare Una nave dei pirati Cioè parliamoci chiaro Però ci starebbe Potremmo mettere Le fornaci Potremmo metterci Le crafting table Le cose utili E poi ovviamente Sotto Ci sarà Tutta la zona Con Le ceste Quindi potremmo Aprirla un po' Questa zona Togliere le prigioni L'acquario lo tengo L'acquario è figo Quindi ce lo teniamo Però potrei abbattere Qualche muro E appunto Fare un mega magazzino E ovviamente Dovrò anche Rimettere in sesto Questa parte qui Dove la nave È stranamente distrutta Non ho ben capito Il motivo Però Lo faremo E vediamo dall'albero maestro Che vista abbiamo È abbastanza alto Questo albero maestro In effetti Non vorrei mai che Ci siano altri Spawner qua sopra Invece no Perfetto Si vede Il mondo Da molto Molto in alto Possiamo controllare Bene la zona È l'unico albero maestro Che c'è Cioè è l'unica L'unico punto di osservazione Che abbiamo Tra l'altro ci possiamo buttare Non subire danno Ricordiamocelo Ci sta Ci sta come soluzione Mi piace Allora La prima cosa che Possiamo fare Quindi è Fare l'ennesima Crafting table Che andiamo A mettere qui Non è centrata La cosa mi dà parecchio fastidio Quindi la metteremo Esattamente qui E poi Ci facciamo al volo Una prima chest Che sarà una chest D'appoggio Però la usiamo Per lasciare dentro Tutta questa roba Che per il momento Non voglio avere I mezzi piedi Quindi mi libero Un po' l'inventario E porterò Poi tutto il resto Dei miei averi qui Inizierò a trasferire Bene tutto Abbiamo anche dei pot Che non sono bardati Quindi dobbiamo fare qualcosa Per questi pot Per cui Per cui Eccoci di ritorno Con tutti i nostri averi Mettiamo giù Una double chest Eccoci qui E iniziamo a svuotare L'inventario Da tutta questa roba Dovrei farmi un bel magazzino Dove magari iniziare A organizzare gli oggetti E soprattutto Organizzarli anche In base Sta piovendo Come al solito E organizzarli Stavo dicendo anche In base a La tipologia di oggetti O la mod di provenienza Visto che ci sono tante mod Nella serie Dobbiamo stare attenti Anche a questo Discorso qui Mettiamoci anche Un paio di fornaci Intanto Con già il carbone dentro E ci prendiamo Infine anche Tutta questa robaccina Qui E iniziamo a distribuirla Nelle due ceste Sarà tra l'altro Molto interessante Addornare Questa casa Tra virgolette Questa nave Con qualche oggetto Della Bibliocraft Per esempio Perché se noi andiamo A cercare Bibliocraft Ho attivato la Not enough items A posto per farvi vedere Ci sono un sacco di oggetti Per esempio Seddie Con dei crafting Anche abbastanza Semplici Ci sono Le poltrone Ci sono anche Le veri e proprie mobili Come per esempio Gli scaffali Possiamo fare degli scaffali Eccoli qui Ancora meglio Delle teche Proviamo a fare una teca Con i mezzi blocchi E un lingotto di ferro Dovremmo poi poterci Appendere all'interno I nostri oggetti più rari Per esempio Quindi se noi prendiamo Un pezzo di ferro solo E dei mezzi blocchi Quindi eccoli qui Che ce li abbiamo Possiamo creare In teoria Questa teca Quindi facciamo così Ne manca uno Sbam La piazziamo tipo qui E qui dentro Ci posso mettere Per esempio Che ne so Questa shard Giusto Come funziona la teca No forse non devo fare la teca Che cos'è questa cosa che ho fatto Qui ci vanno le armi Ok Ecco avevo sbagliato Sì sì Qui ci vogliono le armi Per esempio Che ne so Un'arma Della Atom La possiamo mettere qui dentro Farebbe la sua porca figura La teca che intendevo io Invece No in realtà Lo scaffale Ci sono anche le lampade Molto carine Lo scaffale Che può conservare oggetti Tipo questo qui Vediamo Come funziona Mezzi blocchi E un blocco intero Molto più semplice Quindi dobbiamo prendere Un blocco di legno Eccolo qui I mezzi blocchi Li abbiamo Si fa una cosa Di questo tipo Si mette anche questo E in questo modo Poi appenderlo E metterci Qualsiasi oggetto All'interno E viene conservato Al posto delle comuniceste Puoi fare una cosa Di questo tipo Ed è decisamente Una figata Potremmo cercare Di migliorare il tutto E arredare il tutto così Sarebbe davvero Davvero molto carino E mentre qua sotto E mentre sento Versi ignobili Provenire da questa nave Dovremmo Abbattere queste pareti Perché voglio Ricavare spazio Qui poi è pieno di letti Quanti letti Non ci servono tutti questi letti Ci dobbiamo fare Un mega magazzino Qui dentro Quindi tutti questi Blocchi di legno Li toglieremo Abbattiamo le pareti E ci facciamo Un bello spazio E qua temo Che senza un'ascia Con efficienzi qualcosa O almeno un'ascia Di diamante Si può fare ben poco Il diamante volendo Ce l'ho Però Mi servirebbe anche efficienza Se no Viene comunque un lavoraccio Abbastanza lungo Quindi va fatto con Molta molta pazienza E guardate un po' ragazzi Ho tolto a malapena A metà delle pareti Di questa zona E guardate quanto cavoli Di spazio c'è C'è davvero un sacco di spazio In questa nave Non sembrava quasi C'erano un sacco di stanzine Stanzette inutili Ma lo spazio che c'è È davvero tantissimo Tra l'altro Con tutto questo legno Che stiamo ricavando Potremo anche Ripristinare Il buco Che c'è nello scafo Che sarà la prima cosa Dato che per l'appunto Qui c'è Un enorme Buco Ed è imbarazzante Quindi dobbiamo Assolutamente Fixare il tutto E Ricavarci In realtà Anche un bel po' Di tronchi grezzi Per Ripristinare lo scafo Di questa nave E poi magari Metterci dell'acqua sotto Perché Onestamente Sarà anche una cosa Tipo super originale Ma una nave Che sta nelle montagne Non ha proprio senso Dobbiamo cercare di Sistemare tutto ciò Però potrebbe venire Davvero Una base Molto molto spaziosa E decisamente originale La trasformeremo In una sorta di Fortino Potremmo addirittura Sfruttare L'enorme ponte E creare delle torri sopra Non è che deve rimanere Per forza Una nave La possiamo Modificare come vogliamo Creare una sorta di Struttura Collage Una sorta di E Accozzaglia di pezzi Steampunk Pensate per esempio Al castello errante di Aul Come Idea di struttura Che ha un insieme Di pezzi Strani Differenti Che però nel complesso È davvero davvero Molto figo Ho bisogno di Una torcia E delle scale Per completare quella zona E poi E poi niente Mi servirà solo un sacco di tempo Per liberare tutto questo spazio Qualcosina Della struttura originale La voglio tenere Per Per delimitare Dalle stanze Magari qui sopra Dove c'è la stanza Del capitano Che non è neanche mai comparso Se l'hai dato a gambe Credo Lasciandomi la sua Spada terra Magari qui sopra Faremo la camera da letto Qui appunto Possiamo fare una sorta di Cucina Slash sala Con le fornace E tutto quanto E poi sotto fare Appunto Che ne so Anche eventuali meccanismi Però un enorme Enormissimo Magazzino Mi servivano delle scale Dicevo no? Quindi le Craftiamo Al volo Eccoci qui E andiamo di sotto Con anche le torce Perché avevo intenzione Di illuminare In realtà ragazzi Questa è un'idea Che era uscita anche Nei commenti Abbiamo visto la nave Insieme nello scorso episodio Alcuni di voi Mi hanno detto Ma Eren Perché non usi la nave Per farci una base? L'idea è Dannatamente figa Quindi è quello che faremo Ragazzi Ci faremo Una base In una nave Dei pirati Questa parte L'abbiamo ripristinata Rimane il pezzo sotto E' tutto distrutto Qui si vedono i buchi In realtà I blocchi chiudono Tutto alla perfezione Letter foliage Rende i tronchi rotondi E quindi fa vedere Attraverso Crea questi spazi Che possono risultare Sgradevoli Però Da un certo punto di vista Mi piacciono anche Perché Danno più campo visivo Comunque ragazzi Detto ciò Tappiamo questi due buchi Perché sono davvero irritanti E noi ci possiamo salutare Ci vediamo nella prossima puntata Dove mi farò trovare Con la nave Già un po' più Riparata E quindi sarà la nostra base E sarà decisamente più abitabile Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti